Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con il DLC di Among the Sleep. Allora, nello scorso episodio ci siamo nascosti sotto il tavolino della nostra stanza e dobbiamo aiutare, trovare a aiutare dei peluche, dei pupazzetti. Abbiamo già trovato la bambolina, il gufo e il gatto, io credo ce ne manchino altri due. Allora, se non sbaglio, diciamo, la parte, questo piano della casa l'abbiamo già esplorato tutto. Adesso ci manca il piano di sopra e i sotterranei. Lasciamo i sotterranei per ultimi, dai, andiamo su. Non mi ispirano per niente i sotterranei. Oddio, che c'è? Ho sentito un rumore. Ah, ma è chiuso! Ah, no, è chiuso! Devo scendere! Devo andare prima dei sotterranei? No, ma veramente? niente! Oddio! Eh, vabbè, andiamo prima nei sotterranei. Dobbiamo trovare qualcosa per aprire... Ma scusami, ma c'era un lucchetto? Ma non c'è un lucchetto. Cosa devo usare? Eh, vabbè, andiamo. Ma tipo, non so... Ecco, palla, palla, vai su. Aspetta, aspetta, ti apro, ti apro io dopo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vai! Non ha fatto nessun rumore, però. Tipo quando si lanciano le cose giù da un pozzo per vedere quanto... Ah! È profondo! Grazie, ma io preferirei la luce accesa. Ottima, state scherzando. Oh, mio Dio, ma quanto inquietante è questo sotterraneo? No, perché c'è quella macchia davanti alla porta? Oddio. No, 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 no! Palla, 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 palla. Palla, vai, 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 palla, vai. Come si fanno a lanciare gli oggetti, vai palla così, ok, vai palla brava palla ha chiuso la porta bravissima ma ah, questi flash questi flash bene bene, bene ah, è un cappotto ok qui niente questo che cos'è? ah no, nulla qua sotto non c'è nulla? no qua? che tipo posso salire? un cappello questi si aprono ma non faccio nulla eh no, vabbè, grazie palla ma mi sa proprio che devo andare di qua purtroppo salve oh dio aspetta apriamola bene questa volta perché se devo scappare anzi no, 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 no che apriamola bene? apriamola poco che se devo scappare me la chiudo alle spalle no? aspetta oh dio no mi sa che qua devo scappare ma veramente ah, è qui ah che cosa? che cosa? oddio 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 no, non so cosa sta succedendo non so cosa stia succedendo mai no 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 che roba è? ma è cos'è? oddio ma siamo sono morta non ho capito cosa dovevo fare comunque cioè la la stufa ci stava venendo incontro ah ok ci siamo hurry light mi ha detto veloce la luce ok aspetta secondo me ah ok dovevo andare qua arrivo 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 aspetta che mi nascondo ah non posso nascondere ah ma ce l'ho fatta ah ok dovevamo soltanto correre ok ho capito aspetta ho visto anche la finestra da chiudere sali 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 non ce la fa non ce la fa sali sali no però questi rumori aspetta apri l'altro apri questo no perché non le apre perché di qua cosa sono non ne abbiamo bisogno via via tutto chiudi chiudi ok muoio no non mi sono fatta nulla ma tipo eh no eh è calmo vabbè corro io corro io corro ah è qua che cosa è stato c'è un rumore bruttissimo basta con questi rumori bruttissimi oddio ma come faccio devo è qua dentro ah è qua è povero come si fa ah devo arrivare lì sopra una cassa dammi la cassa lo sgabello ma perché basta con questi rumori vi prego dai vieni sgabello dai muoviamoci muoviamoci veloce sgabello veloce veloce ok ci siamo forza mettiti qua mettiti qua sali bravissimo oddio è orripilante però questo che cos'è sali qua non sale sali qua salve prego ce ne manca uno però ah che sarà ovviamente al piano di sopra ah ma io non ho trovato la chiave come la faccio mi sono mi sono no non ci credo mi sono incastrata ah no ok ok ci siamo sbloccati pensavo di dover ricominciare tutto si è riaperta la porta va bene andiamo alzati e corri però non c'è nulla cioè non ho trovato una chiave o si è sbloccata adesso magari il cancello o si è sbloccato da solo alzati vediamo se magari si è sbloccato da solo si se va su però ah no l'ho visto era di sotto esci 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 ah oddio era sotto le scale era sotto le scale ok ah si è aperto oddio dai ci manca l'ultimo ci manca l'ultimo che brutta infanzia che ha avuto questa bambina comunque veramente ok ok allora ovviamente qua non ci arriviamo no che cos'era ma mi sembrava di aver visto qualcosa vabbè qua non c'è niente da fare andiamo avanti allora con calma ah che cos'è stato no io lì dentro non ci entro ma qua non c'è nulla ah qua forse ci si può arrampicare aspetta forse ho visto qualcosa secondo me qua ci si può arrampicare a cosa servono queste mensole no forse mi sbaglio però proviamo secondo me qua si può fare qualcosa ah 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 che è successo no eh no forse mi sono sbagliato ah no non ci arriva ah no pensavo no va bene ok come and- ah la luce ah aspetta dimmi che posso accendere la luce forse da qua riesco ad accendere la luce ah no ah ah non posso fare nulla eh devo per forza entrare qua oh dio no dove no 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 dov'è l'ultimo pupazzetto va bene ah vabbè dai usciamo ah beh giusto è vero adesso che mi viene in mente Teddy non c'è perché non ce l'hanno ancora regalato eh per forza eh per forza Teddy ce l'avevano regalato per il compleanno se questo è un prologo il compleanno non è ancora avvenuto ah ah si è chiusa la porta non mi piace non mi piace dov'è perché perché sento batte perché ah 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 no vai qua vai qua vai qua nasconditi nasconditi perché batte il cuore così di chi è questo cuore che batte apri l'armadio che se serve si vabbè ma non troppo ah passiamo passiamo per di qua allora lì la finestra è chiusa però cosa è stato no ma quanto grande è questa soffitta ma me lo spiegate allora dov'è non lo vedo ah qua c'è la neve eccolo come faccio a raggiungerti perché ci sono questi rumori inquietantissimi chi sta arrivando no sta arrivando qualcosa no no non posso passare non posso ah da qua ho visto ho visto arrivo arrivo piccolo arrivo 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 ho visto cosa devo fare vai di qua veloce veloce che sta arrivando qualcosa veloce eccomi eccomi no non ci credo non ci credo come faccio no 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 dobbiamo ok la madre la madre la madre e il padre che litigano oddio questo si apre veramente no no ma la picchiava no veramente io pensavo io pensavo avessero divorziato per il problema che noi sappiamo oddio no invece la picchiava pure per forza è diventata quello che è diventata oh mio dio questa coperta mi inquieta ma la mamma che è scesa le scale sta mettendo via dei libri ah forse voleva andarsene ma la mamma che è scesa le scale era vera no no però non può cantare ancora ah sta togliendo tutto sta mettendo via tutto ah guarda che succede che succede che succede aspetta aspetta ma è il padre che mette via tutto no no è lei è lei oddio siamo fuori dai dobbiamo cercare l'ultimo che cos'è questo non ci sa oddio non si vede niente che ci sono delle impronte che siano del pupazzetto sì lo sento parlare arrivo arrivo dove sei dov'è lo sento ma non lo vedo qua eccolo ecco mi sto arrivando sono qui no no alla madre che c'è no no è il pupazzetto no l'ultimo no no ok va bene si conclude così non siamo riusciti a salvare l'ultimo però forse l'ho capito però forse l'ho capito praticamente cioè non so se questa era una casa di montagna così la madre stava rimettendo via tutto probabilmente per tornare a casa forse dovevamo trovare i cinque pupazzetti per riportarli a casa magari la mamma gli ha detto alla bambina rimetti in ordine i giocattoli che andiamo a casa e lei la bambina giustamente voleva riordinare i giocattoli comunque con la mente di una bambina li vedeva come se fossero imprigionati non so va bene ok è anche abbastanza giusto che si concluda così perché adesso dovrebbe iniziare il gioco vero e proprio carino anche il DLC dai molto 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 carino mette tanta ansia però mette tanta troppa ansia troppa va bene dai comunque bello anche il DLC quindi direi che con Among the Sleep abbiamo visto tutto quanto lasciate un like e un commento se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti